Amici telespettatori ci troviamo nel territorio di Mammola, abbiamo percorso una strada provinciale che conduce dal territorio di Grotteria attraverso le frazioni di Aspalmo al territorio di Mammola. Sono con un gruppo di cittadini che abita da queste parti, è una zona collinare molto impervia, c'è una strada che è completamente abbandonata da anni. E' una petizione qui in mano fatta nel 2010, quindi sono passati la bellezza di 5 anni e nessuna risposta, petizione inviata all'amministrazione provinciale perché la strada è della provincia ma non solo, anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al prefetto della provincia di Reggio, alla regione Calabria, all'assessorato della protezione civile, alla provincia di Reggio settore protezione civile e al sindaco del comune di Mammola ovviamente. La petizione era per il ripristo di questa viabilità della strada perché è interrotta in vari punti, ci sono anche delle frane molto pericolose, se voi vedete qui alle mie spalle c'è questa montagna che continua a franare senza protezione, ci sono tante famiglie che sono costantemente a rischio di isolamento. Cosa vi sentite di dire? Ci sono connetti tappati, tumbini tappati, acqua un po' non ha sbocchi per uscire e provoca sempre danni e frane. Avete in più modi sollecitato chi di dovere ma nessuno è mai intervenuto? Nessuno, nessuno mai, ci ha visto nessuno qua nella zona, sono stati tutti abbandonati, non c'è no presidente, no consiglieri, no niente, nessuno si ha fatto vedere. Siete arrabbiati perché quando ci sono le elezioni però si fanno vedere no? Certo, 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 se loro non piglieranno subito il provvedimento, non abbiamo bisogno della sanità, siamo abbandonati e non può venire la sanità sul posto, noi ci metteranno d'accordo e facciamo noi qualche cosa in tal strada. Che cosa fate? Cosa volete fare? Che azione di protesta? Sistemare il coccine. Il fai da te praticamente, come è stato fatto in questi ultimi cinque anni, qualche intervento c'è stato però, riparatore in qualche modo. La parte nostra ora ci sarà la parte nostra, si nampiglieranno subito il provvedimento. Solo di frecassi di sordi, però la strada non l'hanno aggiustato, hanno fatto interventi per rubare i soldi. Perché dice questo? Sono stati fatti interventi? Non c'è stato l'intervento, non c'è stato l'intervento, qua l'ho detto prima, siamo abbandonati, qua non si è visto nessuno, non si è visto nessuno, ma è impossibile. Che noi altri cittadini paghiamo i tasse, paghiamo i bolli, paghiamo tutto, assicurazioni, paghiamo tutto e non si è fatto vedere nessuno, ma è impossibile. Il problema più grande è che anche le ambulanze fanno fatica a salire su, quante persone siete qua? Saranno più o meno 200-300 persone, più di mille persone che non sono raggiungibili per questa strada. Quante firme avete raccolto? Facciamo vedere a favore di telecamera, questa è la petizione, ci sono le firme raccolte già dal 2010, è stata inviata, mai risposta? Mai risposta, niente risposta, comincio con i firmi e tutte queste qua, fotografie, abbiamo anche delle fotografie che segnavano questa strada. Ma facciamo una cosa, andiamo più avanti, andiamo nei punti più difficili, prego dica. Vattene 66 e mai polizzare conetti, mai intervene nessuno. In caso di pioggia si allaga praticamente, diventa un fiume. Terminano solo, bisogna dare niente i terreni privati, l'acqua, bisogna dare niente i terreni privati, danneggia tutto. Mi scusi, a Malafrina c'è un pezzo di strada ad arrivare. Malafrina ci abita lei signora? Sì, ho la casa pure io, pago l'imo pure lì. C'è una frana sopra delle case, che si passa malapena così. C'è un deposito dell'acqua, che va bene l'acqua, e c'è la frana dietro delle case. Voi questo l'avete già segnalato o no? Sì, sì, è già segnalato. Quanto tempo fa signora? Un paio d'anni, perché è due anni già che è caduta la... 2009. Dal 2009 che c'è la frana, non è stata rimossa praticamente? No, l'anno fa si passa un pochino, anche l'hanno fatta con le mani così, se no non si passa nemmeno. Noi stessi, noi stessi. Noi stessi, le persone che si parano. Cioè il fai da te praticamente? Esatto. Rischia che ci saranno le case sotto, c'è mia sorella che ci abita, c'è mia mamma che ci abita, mio padre. E lì rischiano che... Se hanno bisogno del medico, che succede? Se hanno bisogno del medico, la frana ce l'hanno di dietro, di sotto abbiamo un'altra strada, ma è rotta pure, quella che viene di Mammola, che passa dalla piglia comunale, è rotta pure quella. Tutte due strade rotte? Tutte due strade rotte. Siete isolati praticamente, in caso di maltempo siete... Il mio padre è rimasto bloccato lì, che non si fosse potuto muovere, perché c'era una frana di sotto e una di sopra e non poteva andare da nessuna parte. E al sindaco cosa devo dire? Non ha mai preso provvedimento per questa strada. Noi sindaco, no la provincia, no la regione e nessuno. Le ultime immagini che vi consegniamo di questo nostro percorso, siamo saliti più su, siamo poco in montagna perché fa anche freschetto qui. Solita strada, quella che vi dicevo prima, vedete la frana, se vi spostate un attimo c'è la frana in atto, eccola qua. Una frana che dura ormai da anni e sotto di noi ci sono anche le stalle e un'abitazione, quindi con rischio e pericolo non solo per gli animali, ma anche per le persone. Strada si vede che è abbandonata da tempo, mentre il pezzo che voi vedete con lo sterrato è stato fatto dai cittadini, non certo con interventi pubblici. Quindi si chiede a chi di dovere è di intervenire perché è difficile anche passare per un soccorso, per un'ambulanza o per qualunque cosa accada qua su, anche perché ci sono mille persone ed è una vera e propria popolazione.